C'è questo gioco però, è horror, ed è... Vabbè, c'è questo gioco che si basa su una leggenda metropolitana realmente esistente della Serbia, ok? Se in Serbia vedete una donna... Vabbè, mettiamo quattro chiacchiere come categoria perché non c'è il gioco, ovviamente. E già questo la dice lunga. Se in Serbia vedete una donna che balla nella foresta, non vi dovete avvicinare, mai. Mai nella vita, perché è pericolosa. C'è tutta una leggenda attorno. E questo gioco si basa su questa leggenda che noi stiamo andando a esplorare, quindi probabilmente moriremo, però chissà. Magari finisce bene, oh. Io non so qual è l'obiettivo, non so se noi siamo tipo... Sicuramente saremo un giornalista che va a esplorare. Press Any Key. Oddio, ma è questa qua, la tizia? Ma quanti ce ne stanno? Ce sta più di una? New Game, The Forest, School. Oh, ma con calma però, eh? Con calma, non mi fa... No, ragazzi, ma è un tipo di gioco... Find the drawings. Ma con quanti FPS me lo sai di... Perché io sento suoni? Aspè, oh, calma. Calma tutti. Non vedete se si vede intanto il gioco? Sì, si vede. Il tizio respira in modo strano. Trova i disegni. No, no, posso zoomare con gli occhi. No, non c'è bisogno. Salve. Edda. No, ragazzi. Non c'è bisogno. Ma cosa fai? Cosa fai? Non c'è bisogno. No, ma è tipo Slender, raga. Ma è uno Slender. No, 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 no. Non mi fare cose strane. Con calma, eh. Perché posso zoomare? Non zoomerò mai. Allora, finché noi non vediamo delle donne che ballano, dovremmo essere apposto. Che cos'è questa faccia qua? Ascolta. Non c'è bisogno, eh. Ma poi posso correre in questo gioco? Non posso fare niente. Ah, posso correre. Attenzione. E, ascolta, io, però, mi sta venendo un po' l'ansietta, eh. Non so, non so. Raga, è lei. È lei. È la donna che balla. E quindi? Ma io, no, no, aspetta, io sento rumori, però. Eh, raga. No, 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 no. Così non si fa, eh. Con la calma. Con la calma. Allora, e... Là c'è un'immagine. Ma che immagine è? No, è una faccia, è una faccia. Proviamo a prendere l'immagine. Proviamo, eh. Mi addentro. Mi appro pinquo. Con calma, eh. Dov'è? Mi sono perso. Minchia, nella foresta. Dov'è l'immagine, bro? Raga... Oddio, santo. Prendi sta immagine. Ah, no, ti prego, no. Ma, eh... Dov'è la tizia? È là, è là, è là, vedi? Ok. Allora, finché non ci sgama, va tutto bene. Siamo a 3 su 10, eh. Ottimo. No, io oggi non mi voglio prendere un jumpscare, bro. Mi spiace. Che so sti sti cosi. Che è? Rituale! Che cosa è successo? No, non c'è bisogno. Ragazzi, eh... Che, 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 che succede? Mi sono... Ma sono scivolato? Sono morto? Ma secondo quale... Ma non posso toccare quei segni? Ma chi me lo deve dire, bro? Dai, regà, no. Mi fai ricominciare dall'inizio. Ma sei un po' un pezzo di, eh? Vabbè, dai, facciamo un po' più arrazzo, un po' più veloce. Allora, due disegni. Il terzo mi pare che era qua. Ah, ma ho la stamina. Ottimo. Aspetta, fammi andare a prendere questo. Che era il secondo. Oh, non corre più il tizio. Perché? Però ti prego, stai concentrato. Allora, dov'era? Ok, sta là. Ascolta, io oggi non mi prenderò un jumpscare. Perché no? Eh, però io ho paura che se vado qua la triggero questa e mi segue. No, eh? A posto. Eeeh, come faccio? Oh, 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 che succede? Ma io sento cose, regà. Ma sento cosa? Devo saltare? Prendi sto... Complimenti per la scelta, comunque, dell'immagine. Oh, bene. Ora come usciamo? Facciamo un piccolo salto. Minchia. Questo salta due metri. Un giocatore di basket. No, regà, aspetta. A parte, a parte che mi sta facendo... Ah, no, non riesco ad abbassare le impostazioni da qua. Bene. Allora, lei è là, la vedi? La vedi? Abbiamo quattro immagini su dieci, per cui sta... Non sta andando male, eh? Però... Non vorrei parlare. Come dice, parla e... Oh. No, 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 no. C'è stata una qua, guarda, l'hai vista? Cioè, ma io... No, 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 che succede? Che succede? Perché? Raga, perché l'ha scritto ogni tanto si... È diventata rossa l'ha scritto, l'hai visto? Guarda, guarda, di nuovo. No. Ma... Perché? Corri, corri, via, 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 via. Non c'è bisogno. Miss. Miss, non c'è bisogno. Ma che è infinito, corre. No, ascolta, non ci siamo, eh. Non ci siamo, non ci siamo. Cosa faceva? Era un pollo, eh? Era... Raga, sto morendo. Ma era un pollo, faceva con le braccia, tipo... Voglio volare, ma non ci riesco. E quindi mi incazzo. Sì. Dai, raga, ma che gioco scemo, eh? Ma che cazzo? Sto morendo, io sto morendo. E allora, adesso andiamo più aggressivi, no? Ma poi un cazzotto a questa non ce la fa... Non lo sai mettere? Cioè, voglio dire. Allora, andiamo. Convinti. Impavidi. Oh, no. Cioè, fanno più paura le immagini, sinceramente, che non questa che ti segue. E ti rompe. It burns. Brucia. Bene. Prendi la foto. Presa? Ok. Usciamo senza toccare queste... Senza toccare, ho detto le scritte. Grazie, eh? Sempre sul pezzo, tu, eh? Ok, no, no. Aspetta, questa strada... Ragazzi, c'è troppo silenzio. Oh, ma c'è un laghetto qua. Posso buttare? Attenzione. Ma che... Che posto brutto, ragazzi. In parte gli scherzi. Dunque. Io non capisco. Dove sono? Ho perso... Cos'è quello là? No, 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 no. Ti ho visto, eh? Ti ho visto, sì? Sì, sì. No, comunque... È brutto che una volta che ti segui non perde più l'aggro. Ah, ma questa è quella di poco fa, sì. Allora, io spero che non venga. Eh, da, ma da, bro, ma... Ma come devo... Ma come devo fare? Io sento la musica, lei che balla. Bella questa musica. Scusi, miss, posso ballare assieme a lei? Scusi. Posso? Possiamo unirci in una danza? Sfrenata. Ecco, ecco, guarda, diventa rossa la scherbata? Mi dovrebbe seguire? Boh, non... Ma sei mai scemo, ragazzi? Ma dai? Comunque, vabbè, è un giochino, raga. È un giochino. Cioè, io non mi aspetto chissà cosa. Però almeno fatelo con un mezzo senso. Allora, no, 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 aspetta, che succede? Che succede? Non c'è bisogno, eh? Non c'è bisogno di seguirmi, non c'è bisogno di fare. Come faccio a prendere questa foto? Da qua. Devo saltare. Vai. Hop. E siamo a 4. Oh, buono. Buono. Non morire, eh. Bro, non morire, non c'è bisogno, eh. Ok. Oh, mi sa che con questa siamo a 5. Non sono mai arrivato così lontano, eh. 5. Quindi l'obiettivo è proprio non farla aggrare. Perché se tu la... No, no, no. Che è? Che è? Che è? Micchia, guarda questa quant'è vicina. Perché se lei ti inizia a seguire, hai finito. Non puoi più salvarti, purtroppo. Hop. Ok. Bene. Allora, 6 è il punto più distante. Cioè, non sono mai arrivato qua, eh. Per cui occhio. Cerchiamo di non ruminarci la run. Cos'è quel coso lì? C'è un fuoco, bro. C'è un fuoco. No, io non ci voglio andare. Io non ci vado. Perché dovrei andarci? È palesemente una trappola. Aiuto. Allora. Ancora? Ma basta. Ma basta. Voglio altre foto, io. Eccola. Ma poi quante ce ne stanno, questa qua? Ragazzi, è una specie in continua riproduzione. Sì. Si riproduce, lei. Cos'è? Cos'è questa casa qua? A me devo entrare. Ma non c'è. No, no, no. Non c'è. Dai, raga. Dai. Dai, come sono morto. Ma come sono morto? Ma è un giochino scemo. È un gioco di merda, come direi io. Sì. Vabbè. Sai che ti dico? Andiamo di nuovo in quella zona perché mi interessava esplorare un attimo che cos'altro c'è. Cioè, ma io mi chiedo, che cosa succede una volta che io prendo queste dieci pagine? Che succede? Questa si arrabbia. Sento la musica. Cioè, io dovevo entrare da qua. Oh, madonna. Ma no. Anche tu. Anche il troll. Prendi. Prendi sta... Ok. Bene. No, regà. No, 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 no. Non c'è bisogno, eh. Allora, eh... C'è una tizia là. E noi abbiamo un'immagine là. Quindi cerchiamo di... Tagliare. Sperandoti non. Ehi. Stai lì, eh. Dov'è, dov'è? Non la vedo. Ok, là. Poi che foto, eh. Ah, vabbè, dai. Questa ci può stare. Michael Jackson. Ci può stare. Ne abbiamo quattro. Allora, teoricamente quattro più le sei che avevamo prima dovremmo aver finito. Cerchiamo di non morire stavolta. Oh, oh, oh. In mezzo ai ramoscelli. Ragazzi, i ramoscelli mi hanno bloccato. Vediamo di... Ah, questa qua non l'ho presa. Non ci siamo passati a fianco. Il mister. Ok. Ok, con calma, eh, raga. Con calma. Con calma. No, no, no. Non facciamo errori stupidi qua, eh. Non facciamo errori scemi perché ci siamo quasi. Allora, poco fa come abbiamo fatto? Abbiamo fatto la strada opposta, però, poco fa. Non abbiamo fatto questo percorso. Vabbè, proviamo, dai. Let's try, let's try. Ok. Piano, eh. Piano. Siamo a sei? Sei su dieci. Ah. Oh, mio Dio, c'è quella là che mi mette un'ansia. Ok. Sei pronto? Salta. Ok. Ottimo. Comunque, complimenti per l'elevazione. Secondo me il suo dico fa basket. Palese. Cioè, salta. È un canguro. Siamo un canguro, ragazzi, in questo gioco. Sì. Non ho mai visto... Oh, che è? Che è? Che so, si suoni qua? No, dai, basta, eh. Basta. Io non ce la faccio. Siamo a sette su dieci. Ok. Allora, qui dietro c'è la tizia che poco fa mi ha preso. Quindi, occhio. Lasciamola stare, proprio. Eh, però io in tutto questo... Devo capire dove andare. Cioè, se io non capisco... Oh, 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 là c'è una. Ok. Di là no. Ok. Con calma, eh, raga. Con calma. Si può fare. Oh, qui abbiamo il tizio... Beato. Vai. Perfetto. Raga, otto su dieci, eh. Dobbiamo andare alla zona vicino al lago e abbiamo finito. Oh. C'è troppo silenzio. Raga, io quando c'è silenzio mi metto un po'... Ma posso... Ma chi è questa? Nooo. Questa mai presa, mi sa. E c'era un motivo. C'era... Oh. Posto? Bene. No, raga, ma questa... Ma questa è veramente terrificante. Ma no, ma no. Ma io non ci sto. Come faccio a raggiungerla? Da qua. Kangaroo Jack. Kangaroo Jack. Ecco. Kangaroo Jack. Ah, e poi perdiamo. Ok, ora abbiamo l'ultimo, raga. Io non so che succede. Probabilmente c'è un jumpscare. Se è un giochino di merda come penso... Non credo ci farà vincere. Dove su dieci? Dove è l'ultimo? Sta qua. No, 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 no. Calma, eh. Cal... Che cosa mi blocca, bro? Non mi fa arrabbiare. Guarda, guarda. Un gioco creato da Topolino in persona. Vai. Madonna. L'ultima foto. Oh, dieci. E quindi? Oh. Che succede? Ma come è thanks for playing? Finisce così? Abbiamo completato il gioco? No, dai, ma... Allora. L'idea c'è. È molto alla Slender, devo dire, no? Trova le pagine, tutto, però... L'idea c'è. Potrebbe essere un bel... Un bel giochino. Peccato che una volta che ti aggra la tizia, che ti inizia a inseguire, non puoi più... Non puoi fare niente, praticamente. Non puoi più... Cioè, hai perso, ecco. Oh, dai, mi è piaciuto, eh. Costa 70 centesimi. 70 centesimi, sì. Ma guarda, se lo trovate gratis ve lo consiglio. Mettiamola così.